Ok, allora, la piattaforma mi dice che sono online e sembra che ci siano già tre persone collegate, Enrico, Alessio, anzi due, tre con me, sei, vedo adesso. Scrivetemi un commento e ditemi se mi vedete, se mi sentite. E così capisco. Nel fruttempo cerco di vedere se vedo me. Ecco qua, ti sentiamo. Perfetto. Aspettiamo ancora un attimo. Qualcun altro che... io non mi vedo. Ecco, dall'invivo. Perfetto. È la mia prima diretta di YouTube. Ok. Perfetto, direi che sta andando benissimo. D'accordo, sono le 20.58, quindi sono ufficialmente in orario. Diamo ancora due minuti, visto che ho detto alle 21. intanto grazie a voi altri che venite qui in diretta. Inutile dire che è la diretta di buono che mi potete fare le domande. Invece chi la guarda registrata, domande. Sì, le può scrivere sotto e poi venirebbe che io andassi a vederle, però non sono mai stato un grande risponditore nei social. perché dovrei organizzarmi e prendere del tempo ogni giorno e andare a vedere se nei miei video qualcuno mi ha scritto qualche cosa. Invece se sei in diretta, poi rispondo, insomma. Che vuoi che tolgo la sfocatura, Lorenzo? Non c'è niente di speciale dietro. Tanto poi stasera mi avvalgo anche di slide. Quindi in realtà vedi poco di quello che c'è dietro a me. Tutto ok? Video e audio? Ciao Paola. C'è anche Luigi Colvax. Ah no, quello sono io. Triste. Ma cosa facciamo, dice Dario? Eh, quello che fate voi è ascoltare me se l'argomento vi interessa. L'argomento, il titolo, nella sua semplicità, dice tutto. Come crescono i muscoli? Io credo che sia una domanda eterna. Questa era la domanda che mi facevo io quando avevo 15 anni. Volevo sapere come crescevano i muscoli, per sapere come fare per far crescere questi muscoli. Poi le domande che vengono dopo è quanto crescono? In quanto tempo? Quanto posti i muscoli posso mettere su? Poi ci sono tutte le altre domande che si aprono a ombrellone. Però la domanda numero uno è quella lì. Come crescono i muscoli? È un motivo per cui la stragrande, moltissime persone che vanno in palestra, ci vanno, perché vogliono, anche chi dice voglio tonificare, in qualche maniera è, per essere immobiliato, una cosa che volevo dire, a onore di questo diretto, è che io chiamo come far crescere i muscoli, ma va benissimo anche per le donne e per gli uomini che cominciano ad andare over 40, over 50, e quindi per i quali il fatto che ci sia un fisiologico abbassamento del testosterone è più difficile sperare un aumento muscolare rispetto a uno che dà 20, 25, 30 anni. Tuttavia, come crescono i muscoli è importante da sapere, perché sono poi i fattori che determinano un allenamento corretto, anche per appunto un over 50. Un over 50 magari non cresce, però perlomeno non cala, nel senso non ti perde i muscoli. Fondamentalmente il concetto va bene per tutti quanti, ovviamente sempre cum, grano, salis, cioè con un po' di buon senso, no? Cioè cercando di capire, di interpretare che va bene a tutti coloro che la palestra la vedono come un mezzo per ottenere un fisico in forma, tonico, muscoloso, no? Forte se vogliamo. Ciao Filippo! Ok, allora, io direi che possiamo cominciare e faccio entrare la copertina. Eccola qua, adesso mettiamo anche la mia faccetta. Così, con lì, vedete un po' me e un po' l'opertina. Cosa fa crescere i muscoli? Come crescono i muscoli? Allora, a chi interessa questa diretta qua? Interessa intanto a tutti i principianti. Chi sono i principianti? I principianti sono tutte quelle persone che vanno in palestra ma non hanno progressione e di conseguenza non hanno risultato. Progressione vuol dire non hanno risultati. Vanno in palestra e sono sempre uguali. Si guardano allo specchio, più o meno sono quelli. Il peso più o meno è quello, la forma più o meno è quella, la forza più o meno è quella e tutto più o meno uguale. Uno può essere principiante anche per dieci anni. Se non sa come fare, lui va in palestra, però è sempre uguale. Quindi questo è sicuramente per quella gente lì che ha bisogno di chiarirsi l'idea. Poi è per tutti gli altri che si trovano in stallo. Gli intermedi e gli avanzati soprattutto è più facile che entri in un stallo. Cioè avete fatto i vostri allenamenti e a un certo punto, cazzo, niente, il corpo non si muove più. Perché? Perché vuol dire che c'è qualcosa che non fate per poter migliorare. Non è che si migliora all'eterno, vero? Però, insomma, uno può migliorare tranquillamente dieci, quindici, forse anche vent'anni. Ovvio, è una curva. Parte, subito ci sono grandi risultati, poi un po' meno, poi un po' meno, poi è praticamente mantenere. Io alla mia età è mantenere. È già bene mantenere. Quindi questa serata ha lo scopo di chiarire l'idea a tutti quelli che stanno in stallo e poi ha chi ha molta confusione su come fare. Qui ho messo in piccola, se ve lo ingrandisco. Ecco qua, qui vedete ci sono cinque fotografie. Se partiamo dalla prima a destra, vedete i libri. Quindi, chi ha confusione su come fare è magari una persona che studia libri, ok? Ha 10, 15, 20, 50 libri, 100 libri, io ne avrò, non lo so, io credo di avere 500 libri in tutto. 500 libri. Ragazzi, su 500 libri ci sono libri del cazzo, libri difficilissimi da capire, libri ipertecnici, libri aneddotici, insomma c'è un po' di tutto, no? E quindi cosa succede? Che a un certo punto uno dice ma quel libro diceva così, ma quel libro diceva colà, questo libro dice il contrario, e quindi dice chi è c'è ragione? Ecco, il mio scopo di questa sera è di fare chiarezza a chi per esempio studia libri. Dice, ma scomma, in quel libro c'era scritto così. Poi la seconda foto che avete lì dietro c'è il tipo che sta con la mano sulla bocca, no? Che sarebbe quello che ti dà il consiglio. Persone che dicono ma quello più grosso della palestra mi ha detto che si fa così, ma ho sempre sentito dire che si fa così, ecco. Non è detto che quello che ti dà il consiglio a te abbia le idee chiare o le chiarisca a te. Altra foto in alto a destra, invece vedete che c'è uno alla lavagna. Ecco, molta gente va a fare i corsi, corso per personal trainer, corso di bodybuilding, allenatore, primo livello, secondo livello, va a fare il corso, esce dal corso e non capisce esattamente cosa hanno detto o non se lo ricorda più. Oppure è stata detta tanta teoria e dopo nel pratico dice, ho capito, ma quello diceva così così, ma se io lo faccio col signor Mario cazzo non succede e li cozza la teoria contro poi quella che è la pratica. La foto in basso a sinistra è quella dove vedete il trainer con l'allievo barra l'allieva, anche lì purtroppo ci sono molti trainer che hanno preso il certificato in due giorni, voi capite che in due giorni zio cane, lo dovrebbero sapere anche loro che non ha senso, però purtroppo esistono queste realtà. Gente che si è diplomata, si è certificata in un weekend, due weekend, e ovviamente non può avere poi l'esperienza. Poi in due weekend quanto sapere vuoi mai riuscire a passare? Parlo io, che ho fatto anch'io queste minchiate qua, cioè le ho fatte sia da allievo, quindi sono andato a fare corsi da due giorni, da tre giorni, e li ho fatti io come docente. E alla fine cosa mi sono portato a casa? Mi sono portato a casa che purtroppo il tempo è troppo limitato. O è un argomento specifico, tipo il corso su come fare stacco da terra. Come fare stacco da terra? Otto ore, ok, un corso di un giorno, cazzo funziona. Otto ore solo stacco da terra, ok. Oppure addirittura, meglio ancora due giorni. Per esempio il corso di natural picking, gli ultimi che facevano erano di due giorni. Parlavano solo di come si gestire strategie alimentari per andare in forma e per poi definirsi. È un argomento solo, ok. Anche lì però ti cagano giù una marea di informazioni, esci che sei mezzo rincoglionito, se non ti metti subito a studiare il giorno dopo, dopo una settimana ti sei già dimenticato la metà delle cose. L'ultima foto che ho messo in basso a destra, tu vedi il telefonino e il computer, intendendo internet, cioè tutte le informazioni che noi andiamo ad attingere da internet, che è lì, anche lì, ognuno si sveglia una mattina, soprattutto su Instagram, e ti scrive, no, come si fa lo squat, come non si fa lo squat, i cinque errori per i principiti, le cinque maniere per saltare la corda, e via di cibo. Quindi una grande confusione alla fine, a meno che uno non abbia l'esperienza e la capacità di interpretare quello che viene detto. Allora, perché ascoltare me? Perché ascoltare me? Allora, vi ringrandisco. Io sono l'anello di congiunzione tra la pro-science e le evidenze scientifiche, ovvero io sono una persona che ha cominciato quando i libri ce n'erano pochissimi o niente. Quindi era tutto empirico, tutto in base alle esperienze che si facevano in palestra, tutto per sentito dire, tutto per tramandato. Poi hanno cominciato, ovviamente, giustamente, a studiarci sopra. A fare, a ricerche, a studi scientifici, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Quindi capite che dal 1980 a oggi, che siamo a 45 anni dopo, insomma, per fortuna, no? Abbiamo accumulato sapere. Però quello che vi voglio dire, per amore di chiarezza di tutti quanti, ricordatevi che tutto il sapere arriva dalle prove empiriche fatte prima. Nel caso del bodybuilding, nel caso dell'allenamento in palestra, dell'allenamento con i sovraccarichi, non c'è uno che si sveglia la mattina e dice, ah, partiamo dalla teoria, facciamo finta, diciamo che in teoria, così, 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 e adesso proviamo a farlo. No, è sempre stato il contrario. È sempre stato guardando uno che faceva qualcosa, e vedendo i risultati che c'erano, cercare di spiegare perché c'erano i risultati, facendo in un certo modo, o perché non c'erano, facendo in un certo altro. Io mi ricordo, diversi anni fa, quando un genio che abbia in Italia, che risponde al nome di Paolo Evangelista, per chi lo conosce, per chi non lo conosce, non importa perché, lo abbiamo tutti lo stesso, ma, ce ne sono due Paolo Evangelista, uno si occupa di aerobica, così, e l'altro, invece, è un ingegnere elettronico, laureato scienze motorie, ha scritto un libro di CSS, di 740 pagine, ed è un genio, cioè una persona che vede più in là di tutti gli altri. Ai tempi dell'ignoranza generale, lui era uno che si faceva le domande, diceva, ma perché facciamo 4 per 8, e non 5 per 8? Perché se faccio 3 per 10, non è la stessa cosa che se faccio 10 per 3? Ai tempi, quando non avevamo queste risposte, lui già si faceva le domande, perché ho tirato in valo adesso Paolo? Perché lui era uno che già, facendosi le domande sulla pratica, che uno, se studia, se studia fisiologia, se cerca una spiegazione, appunto, scientifica, dove per scientifico, intendiamo, misurabile e ripetibile, ok? Questo ci permette di entrare in una strada sicura, perché mentre prima è, fai così, ti succederà questo, forse, adesso più avanti vedremo, perché succedevano questi casini qua, no? Ve lo anticipo un attimo, chi è un po', che mastica un po' di bodybuilding, avrà sicuramente sentito parlare dell'heavy duty, e poi avrà sentito parlare del sistema Nubre, o del manbole, tre. Sono metodi di allenamento di bodybuilding all'opposto, uno, poche serie intensissime, intensità pazzesca, il respose, stripping, drop set, bing, pazzesco in un lato, da una parte, e l'altro invece, volumi di lavoro infiniti, dieci serie di squat, più dieci serie di leg press, più dieci serie di leg extension, e via dicendo, ok? Poi tu guardavi, da un po' più avanti, io vi faccio vedere, Sergio Nubre, questo campione di colore francese, era uno che faceva tantissime ripetizioni, lui faceva tutto, 15-20 ripetizioni, ed era grosso come Mike Menzer che faceva tutto, 6-8 ripetizioni. Ai tempi, noi non capivamo, ci perdevamo per strada. Se uno non ha la spiegazione scientifica, cioè misurabile e ripetibile, vuol dire che la posso misurare su di me, e che la posso ripetere su di me e su altri, e quindi ho una strada che mi dà delle logiche, e eravamo bro science, per l'appunto. Ecco, io sono l'anello di congiunzione, perché dico che sono l'anello di congiunzione? Perché io ho 58 anni, culturisti di 58 anni non ce n'è tantissimi, un po' perché sono già morti, perché, ovviamente, dai, bombe, 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 e uno ci rimane, un po' sono morti, un po' sono rimasti affezionati al mondo romantico dell'old school, e non gliene frega un cazzo l'evidenza scientifica, soprattutto l'evidenza scientifica gli viene raccontata da un secco, perché loro dicono, ma se tu sei secco, cazzo, vuoi da me, cosa mi devi insegnare? Io sono grosso, tu sei grosso, mi sei fatto le bombe, fondamentalmente, e perché avevi genetica? Hai risposto bene, anche se sbagliavi qualcosa, cazzo, tu invece di morire e di farti male, crescevi, ok? Gli altri che facevano come te, o morivano, o si facevano male, male fisicamente, o male all'uso del doppio. Quindi, io invece, non è che io sono più bravo degli altri, io guardo a me, io pianto dal nervoso quando venivo a sapere cose che erano al di fuori di quello che era la mia convinzione di essere bravo e di sapere, ok? Però funziona così, devi rimbottarti le maniche, testa bassa, e riprendere, e capire che non finirai mai di sapere. Quindi ecco perché dovete ascoltare, dovete, perché mi permetto di parlare, perché io prima ho fatto anni e anni e anni di prove, prove, sperimenti, quello che diceva quello, quello che diceva quell'altro, e poi ho cominciato a guardare i libri, guardare, sì, prima a guardare, ho l'immagine, il culturista guarda l'immagine, e poi ho cominciato a studiare e a studiare, a studiare, a studiare e capire sempre di più. Qual è il vantaggio mio? Che tutta la teoria che mi viene passata dai libri, io la posso trasportare in un'esperienza che ho vissuto, oppure no. Quindi quando uno mi viene a dire che, ne so, le alzate laterali devono essere fatte in un certo modo, anziché in un certo altro perché l'osso si muove così e allora la capsula e mi parlo in tutte le cose dell'articolazione eccetera, io che ho fatto alzate laterali in tutte le salse che fate fare ad altri e quindi ho una casistica altissima di situazioni, posso dire quello che dici è vero perché l'ho visto succedere oppure quello che dici è solo teoria perché non l'ho visto succedere. Ok? Mentre i ragazzini di adesso che hanno tanta buona volontà, tanto entusiasmo e si smazzano perché effettivamente le cose le sanno, perché la teoria la sanno, a loro mi manca l'esperienza. Hanno cinque, dieci, dieci anni di esperienza, per carità, dieci anni di esperienza è già chapeau. Io ne ho quaranta e sono quattro volte avanti a loro. Ok? Quindi ho quattro volte. Io sono a mia volta se vogliamo un'evidenza scientifica, non io. Cioè tante cose che so sono per forza un'evidenza scientifica. L'evidenza scientifica è quando si prende un argomento o una cosa, per esempio vediamo come, qui in questo caso, come si fa l'ipertrofia. Ok? Questo ne parliamo ampiamente. Per l'ipertrofia si fa facendo così, 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 così e io dico sì. Posso dire sì, no, sì, ma manca questo e questo perché ho fatto talmente tante prove che posso dire in maniera scientifica, cioè misurabile e ripetibile se quella cosa è vera oppure no. Poi, appunto, l'ho detto, ho fatto quarant'anni dentro le palestre ad allenarmi e ne ho fatti venticinque insegnare. Quindi ho insegnato agli altri, ho visto che cosa succedeva. Se dovevo insegnare era ovvio che io dovevo avere le idee chiare. Fiamo restando che cose che dicevamo quindici, venti anni fa al giorno d'oggi ci sogniamo altamente dal dirle, vero? Perché ci siamo resi conto che sono delle cazzate enormi. Ne ho passati comunque tanti a studiare i libri, vabbè, i corsi, anche qualche, ho fatto un po' di università, da scemo non l'ho finita, sto sempre pensando che la voglio finire adesso perché mi rompio anche le balle di lasciare le cose a metà, però avendo una certa non ho più la capacità mentale di studiare veloce, comunque vabbè, mi sono a fare bene. Non ho peli sulla lingua, ecco, io non ho interessi economici, a me non mi cambia niente, cioè questa notte, dopo quando chiudiamo qua, tutti quanti dormiamo lo stesso, tutti quanti facciamo le nostre cose lo stesso, quindi io non ho nessun interesse a nascondere qualcosa o enfatizzare qualcosa, non me ne frega niente, non devo mica vendere niente. Quindi non ho peli sulla lingua, se ti può dire che le bombe fanno prendere, fanno diventare più grosso, non serve dire te lo dico io, ma te lo dico, cioè non sto lì a dire oh, stai attento che ti fai male, lo sai già se ti fai male, cioè è pieno il mondo di gente che sa se si vuole far male o no, anche quelli che fumano sanno che si fanno male, quelli che bevono e gli è, ma non è questo il topic di questa sera. Perché parlo come mangio, è un po' la stessa cosa perché appunto non ho peli sulla lingua e so come funziona con le bombe e senza bombe. Perché ho messo questa voce qua, perché mi rendo conto, almeno da quello che vedo, che chi scrive i libri, chi fa contenuti più o meno intelligenti, più o meno completi su internet, sono sempre persone che seguono, che hanno seguito solo una linea, cioè o sono persone che non hanno mai voluto sapere niente del doping e tutto quello che sanno del doping è teoria oppure sono persone che non sanno di doping ma non sanno un cazzo di come funziona nella vita reale. Adesso, passatemi questa parola perché la vita reale sarebbe senza doping, no? Dopo, come funziona il corpo umano, di suo, ok? Quindi ecco, questo è, insomma, mi do un contegno, cioè, spiego perché mi permetto di farla diretta sulla verità di come crescono i muscoli. Poi non è che sono cose che invento io, sono cose che ho studiato e che ho verificato che sono quelle lì. Sono quelle lì, non sono altre. Ecco perché è interessante la verità e poi mi farà piacere che mi facciate voi domande. Io ne ho già 24, 8 sono queste, ecco qua sono un microchettino basso, ne ho tre fogli, ne ho 24, già pronte, però, insomma, ascolto bene. Questa slide qua, cosa fa crescere i muscoli? Ci sono due foto, l'allenamento e la nutrizione. Questa è l'unica cosa chiara, in teoria, perché c'è qualcuno che non è neanche chiara sta roba qua. C'è qualcuno che pensa che sia solo l'allenamento o qualcuno che si mangia. Però è ovvio, no, che fa crescere i muscoli, sono tutte e due queste robe qua. E sottoscritto se la genetica lo permette, a parità di genetica, ok? Io dico sempre che ognuno nasce un animale. Se tu nasci bruco, non sarai mai un cobra, ok? Se tu nasci di gazzella, non sarai mai un elefante. Ecco, il concetto è quello lì. Io conosco persone che si sono studiate tutti i libri del mondo, hanno tutti i metodi scientifici, si fanno un mazzo così, si impegnano veramente tanto, ok? Non dico come un mistero Olimpia, ma molto vicino dal punto di vista di impegno mentale, e sono nessuno, ma veramente nessuno. Sono un'altezza peso, ma forse meno, ma forse un'altezza peggio. Persone, più fortunate geneticamente, come dicevo all'inizio, che basta che tirano sui pesi, non sanno neanche cosa vuol dire range motion, non sanno neanche cosa vuol dire, che ne so, time under tension. Vanno lì, tirano sui pesi, all'ignorante, se vi capita, se vi è mai successo, qualcuno sicuramente sì, molti no, c'è questa palestra ipermega famosa da 50 anni, Gold Gym, a Los Angeles, che c'è dentro il mondo dei culturisti. Se voi andate lì dentro, vedete di tutto e contrario di tutto. Vendete gente che si allena perfetta, ok, e vedete gente che tira i pesi come un animale, ok, e sono enormi. E dici, eh, ma perché si fa gli steroidi? Provi tu e ti ammazzi, perché non è solo prendere gli steroidi, è che quello geneticamente tiene botta. Non solo tiene botta gli steroidi, te ne botta anche i tendini, te ne botta tutto, ragazzo, perché è dotato, gli riesce facile, ok? Ci sono delle cose, quindi volevo parlare genetica per me, Comunque, non voglio smontare nessuno, tutti possono avere una soddisfazione, io ho avuto delle persone, dei clienti ectomorfi, cioè persone nati per essere secchi, ok, hanno messo su un bel fisichetto, i muscoli sono belli, densi, compatti, definiti, hanno una bella struttura, snelli, e va bene così, però, hanno gestito i concetti che io dirò stasera. non lo avessero fatto e, cazzo, rimanevano veramente in paletti, ok? Sarebbero stati sicuramente peggio di quello significato. Bene, entriamo nel sommario di quello che sarà poi tutta questa diretta qua. Quindi, questo si chiama Piramide di Eric Helms, ok? Questo Eric Helms è uno studioso americano, un appassionato di bodybuilding e anche un atleta la sua volta, che anche lui ha una grande capacità analitica di, anche lui si ce l'ha fatto le domande, ma cos'è che fa crescere i muscoli? E allora, a forza di guardare gli altri, a forza di provare lui, a forza di provare con gli amici, a forza di passarsi e di confrontarsi con gente e raccogliere dati, ok? Ha creato questa Piramide, ok? Che adesso andremo a vedere un po' alla volta. Allora, vedete la Piramide? Sono sei punti, da quello più grande sotto a quello più piccolo sopra. Teoricamente, quello più grande sotto è quello che ha più importanza, poi man mano che andiamo su c'è sempre meno importanza. Sarà vero? Non lo so. Adesso ve lo, non lo so. Diciamo che io ho la mia opinione e stasera la condivido con voi. Andiamo a me. quindi, aderence, come è scritto in americano, sarebbe per dire quanto questo, quanto l'allenamento, questo è il primo fattore, uno dei fattori che non cresce i muscoli. Quindi, quanto l'allenamento che vado a fare per far crescere i muscoli è aderente con me, cioè quanto è a misura con me, quanto me lo posso sentire. qui ho messo tre parole, su misura, flessibile, appassionante, non c'era la mia foto. Diciamo così, così vengo meglio. Là. Allora, su misura, cosa vuol dire? Vuol dire che stando a Helms, lui dice è inutile che ti fai un allenamento da due ore di sala pesi se tu dopo un'ora ti sei rotto il cazzo. Oppure non hai due ore disponibili. Non ce le hai, cazzo, perché per il tuo stile di vita, per i tuoi impegni e quant'altro, non ce le hai. È inutile, perché lo farei per un po', lo farai male o comunque devi mollare la sessione a metà e quindi non va bene. Il tuo allenamento deve essere su misura per te. Oltretutto su misura vuol dire anche in base alle tue capacità. Cioè se tu non hai mai fatto niente un 3x10 ti va bene, ma se tu sei Ronnie Coleman 3x10 è un riscaldamento. di qualche cosa. Quindi su misura vuol dire appunto quanto deve durare la sessione e quanto volume di lavoro ci metto dentro. Flessibile significa che deve essere non obbligatorio. cioè se io un giorno sono psicologicamente stanco in teoria io dovrei secondo Helms io devo non devo preoccuparmi cioè non ho voglia di finire la sessione non ho energia mi allenerò meno faccio quello meglio un pochino piuttosto che niente ok? E la terza voce deve essere appassionante deve essere una cosa che mi fa entusiasmo di andare a fare. Se a me mi fa schifo di fare lo squat allora non deve essere obbligatorio oppure se non sono capace di fare lo squat io non devo mettermi l'esercizio squat nella scheda di allenamento perché se no vado in ansia vado in ansia perché non lo so fare oppure lo faccio male così poi lo faccio male oppure appunto non ho voglia perché appunto non mi appassiona. Quindi questa cosa dell'aderenza del fatto che l'allenamento sia fatto intorno alla persona secondo Helms ha un'importanza grandissima. Filtriamo secondo la mia esperienza. Allora è vero che deve essere su misura flessibile appassionante però è anche vero che ci sono dei paletti ok? Cioè deve essere su misura giusto questo ci sta quindi è inutile che ti do l'allenamento di appunto Ronnie Coleman se non sei Ronnie Coleman se io sono uno che è appassionato alla maratona ma non ho neanche mai corso dieci chilometri di fila io non posso la prima settimana mi accorre dieci chilometri perché non ce la faccio? Non ce la faccio fisicamente ok? A correre per dieci chilometri senza fermarmi mai quindi devo prima testare quali sono le mie capacità e da lì partire e dopo andare in progressione questo ci sta però appunto ecco va testato non va preso in maniera teorica perché potrei sbagliare in troppo in troppo poco cioè potrei decidere che quell'allenamento va bene per me ma in realtà già mi scassa oppure il contrario potrei fare un allenamento che per me è troppo leggero quindi non è neanche molto allenato flessibile allora Schwarzenegger diceva che lui se doveva andare in palestra andava in palestra e faceva tutto l'allenamento ecco se uno vuole per crescere i muscoli deve prendersi un impegno con se stesso deve capire che i muscoli non aspettano te se hai voglia o non hai voglia quelli sono sollecitati vengono sollecitati con una certa cadenza se tu continui a sollecitarli succede qualcosa e se no no mi ricordo una volta facevamo l'esempio con il prato con l'erba alta immaginate un prato con l'erba alta se io scusate mi perche poi intanto ho fatto qualcosa se io cammino in mezzo a questo con l'erba alta e mi guardo dietro vedrò più o meno dove sono passato perché non male un po' l'erba dove sono passato rimane un po' giù se poi non passo la settimana dopo forse non mi accorgo neanche dove ero dove ero entrato nel campo perché la settimana dopo quei fili che si erano un po' abbassati sono tornati su ma se io passo il giorno dopo vedrò più o meno dove ero passato il giorno prima e se io comincio a passare due volte al giorno cinque volte al giorno otto volte al giorno sempre più spesso addirittura l'erba rimane giù addirittura poi viene fuori la stradina di terra perché l'erba non cresce neanche più ecco questo è il concetto di cadenza di ripassare e di sollecitare sempre di più qualche cosa quindi se volete che i muscoli crescano devono comunque avere una cadenza di sollecitazione non posso si ma oggi non c'ho voglia si ma oggi piove e ma oggi ho poca energia è vero ci sta ho poca energia farò meno farò almeno una parte quindi questo è molto importante e ovviamente deve essere appassionante se io ho degli esercizi in palestra che non mi piacciono devo trovare degli esercizi alternativi ora non è sempre tutto così semplice perché ci sono degli esercizi che non possono essere sostituiti con altri però possono essere simili ok diciamo che piuttosto che niente è meglio piuttosto andiamo qui il secondo ordino la seconda fascia della piramide di Ems parla di volume di intensità e di frequenza mette tutto nella stessa fascia adesso vediamo di spiegare che cos'è il volume l'intensità e la frequenza perché queste sono le cose gli ingredienti base ok chiunque voi siate lì fuori queste cose se le ragionate avrete degli allenamenti perfetti e se no no molto semplice ok e non lo dico io Ems è stato quello che ha messo insieme gli ingredienti ha detto allora signore gli ingredienti sappiate che sono questi bam 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 prima era tutto c'è chi focalizzava soprattutto su alcuni ingredienti chi si focalizzava su altri avevano risultati avevano risultati parziali avevano risultati perché erano geneticamente dotati e siccome appunto esisteva molto questo Bross Iles questo che dice la legge di quello più grosso quello più grosso diceva una cosa e sicuramente era così no era così per lui che lui gli diceva bene anche se non aveva tutti gli ingredienti ad altri magari anzi quasi sempre mancando tutti gli altri ingredienti il risultato non arrivava andiamo avanti il volume il volume è quello che faccio io in palestra quindi quanti esercizi faccio quanti ne faccio in base a quanto tempo il mio corpo faccia a tenere perché se io metto dietro 24 esercizi e faccio una serie per esercizio da 10 ripetizioni riesco anche a farli tutti ma se comincia a aumentare anche le serie e le ripetizioni io rimango in palestra tre mesi tre ore rimango tanto tempo quindi i parametri che si muovono sono come vedete intanto lì non ho messo esercizio forse c'era perché c'è qualcosa che mi copre eccolo qua no questo è uno sessuale non ho messo nella fascia del volume gli esercizi quindi anche quello è un parametro quanti esercizi faccio in una sessione e qui dopo ci ricolleremo col monofrequenza e multifrequenza poi quante serie per esercizio e quante ripetizioni per serie e quanti chili ad opero è già qui potrei fare tutta la diretta fermandomi qua cercherò di semplificare allora una volta ci chiedevamo ma è meglio come ho detto prima è meglio fare tre serie da dieci ripetizioni con cento chili o è meglio fare dieci serie tre ripetizioni con duecento chili per assurdo ok perché parlando a livello di muscoli i muscoli non contano i muscoli non sanno contare non contano ma sono importanti i muscoli non sanno contare loro non sanno che stai facendo due serie tre serie 20 ripetizioni 6 ripetizioni loro sanno solo che il cervello gli dice di contrarsi contro una resistenza che è più o meno pesante per un certo numero di secondi se io faccio una serie da tre colpi con tanto carico ok e sto facendo stacco da terra o sto facendo stacco da terra il mio corpo capisce che deve fare deve muoversi deve tirar su sto peso deve stendersi deve mettersi in posizione letta per tre volte tirando su un peso x che gli fa tanta fatica quindi ha questo carico che gli crea resistenza e lui per tre ripetizioni quanto c'è fisiologica ormonale fisiologica per cui poi il muscolo cercherà di adattarsi a quella fatica e crescerà parlando senza appunto non andare troppo sullo specifico invece invece se se io gli do una sollecitazione diversa e gli dico guarda invece che fare tre colpi nel fare dieci hai meno carico quindi lui per fare dieci colpi invece di metterci otto secondi ci metterà che ne so venticinque che è il triplo quindi per un tempo tre volte più lungo quello di prima lui deve spostare un carico che comunque gli fa fare fatica e quel tipo di sollecitazione gli darà un altro tipo di risposta fisiologica alla quale lui cercherà di adattarsi il concetto è questo qua il muscolo non lo sa cosa stai facendo tu lui sa che sta facendo una fatica a seconda del tipo di fatica che gli fai fare lui reagirà e si trasformerà in un modo o in un altro se io faccio la maratona corro se io faccio i 100 metri piani corro ma un 100 metrista è fatto molto diverso da un maratoneta eppure tutti e due i correre è lo stesso cazzo di non me sono due sollecitazioni diverse che portano a risultati estetici diversi qui stasera stiamo parlando di ipertrofia e stiamo parlando di ipertrofia dal punto di vista estetico il fatto che poi si studi la forza e che uno voglia migliorare la forza entra a far parte del gioco perché serve ai fini dell'ipertrofia però fondamentalmente chi va in palestra con un'azione estetica quindi per avere il muscolo bello tonico il concetto è quello di capire quale tipo di allenamento deve fare per non sbagliarlo quindi una volta si diceva me l'avevo anche scritto oggi me l'ha scritto un ragazzo e io ho detto si cazzo è vero lo trovo eccolo qua vabbè adesso ve lo leggo quando ho fatto il corso di personal trainer dicevano 12-8 ripetizioni per 15 serie per i muscoli grandi e 9 serie per i muscoli piccoli col 70% del carico e questo e con questo ti avevano messo a posto tu rispondevi come si fanno i muscoli 8-12 colpi per 15 serie gruppi grandi quindi tipo gambe gruppo grande 15 serie e 9 serie gruppi piccoli mettiamo bicipiti serie da 8-10-12 colpi e questa era l'ipertrofia e te l'avevo spiegata così nella sua semplicità ci stava anche quello che facevamo noi negli anni 80 però se non sai perché tu non hai progressioni ok andiamo avanti quindi il volume è quante serie per quante ripetizioni decido di fare il volume io lo devo mettere dentro in base alla mia capacità era come detto prima con l'esempio del maratonista di chi fa maratonista se io non ho mai fatto 10 che mi costo non posso non c'è se io non ho mai fatto pesi è inutile che comincio con appunto le 15 serie per i gruppi grandi di gambe perché mi spaccio subito ok o comunque cerco rogna quindi devo testarmi devo capire la partenza quella di cui io è 3x10 Joe Weider negli anni 70 ha capito sta roba qua per partire signori non sapete come fare 3x10 3x10 ti scegli un esercizio per muscolo ok ti fai 6 esercizi 6 massimo 8 esercizi perché dopo se fai più di 6-8 esercizi comincia a stare in palestra troppo tempo e il corpo l'organismo che non è abituato a fare quella roba lì si stanca comunque cioè gli ultimi è già stato perché fa tutti gli altri ok quindi 6-8 esercizi 3x10 puoi decidere di fare 6-8 muscoli tipo che so pure 2 per il petto 1 di finta 1 di chiudura poi fai spalle poi fai bicipiti tricipiti addominali siamo già arrivati a 5-6 3x10 finita la prima sessione sessione dopo altre parti del corpo 3x10 si parte da lì quanti chili ad opera quanti chili ad opera più che puoi più che puoi cosa vuol dire devi fare 10 colpi prova a vedere quanti carico riesci usare per fare 10 colpi ok e va bene l'altre intensità è un altro fattore fondamentale percentuale di un RM un RM per dire il massimale vuol dire il massimo peso che riesco a spostare per fare una ripetizione di un esercizio però questa roba qui si fa solo con i fondamentali non c'è il massimale di bicipiti perché vai in cerca di rogne veramente chi lo fa a fare i suoi se poi gli parte il tendine del bicipite ok già viste queste minchiate qua da chi purtroppo è ignorante quindi esiste solo nei fondamentali quindi lo squat potrebbe essere la lat machine comunque perché non tutte le persone riescono a fare il pull up qualcosa c'è lo stacco il mille tri press la panca piana e il rematore questi sono gli esercizi fondamentali poi volete c'è quello che ci mette i dip per i tricipiti però vabbè i dip e il pull up le persone più deboli all'inizio non li sanno fare degli altri esercizi si va a cercare il massimale teorico c'è una tabella voi scritte su google tabelle massimali bene vengono giù una valangata sono tutte più o meno attendibili non sono perfette ma sono attendibili o comunque per cominciare vanno bene uno guarda quanti più chili riesce ad operare per fare mettiamo 5 colpi e poi va nella tabella di massimali e dice allora se faccio 5 colpi con 50 chili il mio massimale teorico è 60 quindi sa che teoricamente il suo massimale teorico e così puoi fare anche con i dicipiti puoi fare il massimo carico per fare 8 colpi 10 colpi di carla viene fuori che lo faccio con 30 chili per dire un numero allora vado nella tabella di massimali se faccio 10 ripetizioni con 30 chili il massimale è 40 non lo farai mai il massimale di dicipiti non vai a provare teoricamente è quello così sai che poi puoi lavorare con le percentuali di intensità ok le percentuali di intensità è appunto un altro fattore fondamentale qual è la percentuale di intensità per l'ipertrofia 70 75% questo è lo abbiamo fatto per decenni funziona funziona sì tenendo solo quello se io poi ho tutta una serie di altri fattori che concorrono a farmi crescere il muscolo non devo dimenticarmi però che è importante che io diventi anche più forte non solo più grosso ok la differenza per la porta per essere forte e grosso la capiamo quando guardiamo un powerlifter e un culturista il culturista è 9 volte su 10 più grosso di un powerlifter però il powerlifter è più forte del culturista perché il powerlifter fa un allenamento per la forza diciamo per la performance mentre il culturista fa un allenamento per l'estetica ha un altro di allenamento perché lui lo fa finire semplici tuttavia lasciamo stare il doping perché col doping è tutta una cosa a sé cioè è in gran parte una cosa a sé se io e comunque io anche dal punto di vista di chi fa uso di doping ti direi non sottovalutare il discorso della forza perché sarai doppato finché vuoi ti cresceranno i muscoli meglio però ricordati che i tendini sono i tendini e i tendini hanno una capacità di rinforzarsi più lenta di quanto il muscolo non diventa grosso soprattutto se ti bombi non so se mi seguite quindi il concetto è che anche il tendine va allenato e quindi per allenare i tendini bisogna allenare anche la forza che poi serve comunque diventare più forti quindi se io ho 100 di massimale di banca per capirci e faccio 10 ripetizioni con 70 chili di banca e quei 70 chili sono una sollecitazione per il mio pettorale no? quindi 70 chili per 10 volte sono 700 chili di tonnellaggio se ci si motivano i chili per il numero di ripetizioni quindi è una sollecitazione di un certo tipo 700 chili ma se io aumento il mio massimale e vado a 150 chili per capirci io farò poi le stesse 10 ripetizioni con 100 chili quindi 10% fa 1000 di tonnellaggio quindi sono migliorato il 30% sto facendo memoria magari qualcosa di matematica sbaglio ma seguitemi il concetto se io divento più forte anche i miei allenamenti di ipertrofia siccome sono il 70% del massimale più alto il massimale più pesi ad opero per l'ipertrofia per forza di cose quindi mi interessa anche quello ok quindi l'altra cosa da valutare è la percentuale sul massimale tenendo conto appunto che dobbiamo focalizzare cioè questa grande maggioranza del lavoro sarà sul 70-75% del massimale ma ci saranno anche lavori all'80 all'85% e anche degli lavori di scarico al 60% del massimale che non posso tenere sempre i piedi a tavoletta se mi faccio le bombe posso tenere i piedi a tavoletta e se no no questo era uno dei grandissimi era la frustrazione principale di tutti i natural dei tempi miei io ho cominciato a venarmi nell'80 fino al 1991 ho fatto il natural 11 anni in 11 anni ho preso 10 kg un chilo all'anno con tutti gli errori che facevamo però a un certo punto io ero frustratissimo perché facevo allenamenti come quelli che vedevamo grossi tra l'altro avevamo le riviste che ci sono gli allenamenti di Sean Ray di Haney di gente che era bombata anche i miei campioni e noi volevamo fare quegli allenamenti là ed eravamo frustrati perché eravamo in overtraining cioè eravamo tutti quanti a parte che non riuscivamo neanche a svilupparle le capacità di intensità che sviluppavano loro quindi è vero che facevamo sti volumi di lavoro a un certo punto usavamo i pesi della Lego perché il nostro corpo non ne dava più ma ancora oggi io vedo gente che fa così gente che è convinta di fare allenamenti pesanti oppure ha alla carta tu guardi la narice circa e poi lo guardi ed è ciccio baliccio dici ma scusa ma non sta funzionando ho fatto 9 serie di squat cazzo 9 serie di squat vecchio non è da tutti fare 9 serie di squat magari 9 serie di squat all'80% si ok c'è qualcosa che non funziona o non hai usato l'80% o non erano 9 o non lo so oppure hai fatto 9 serie di squat all'80% un colpo un colpo hai talmente tanto di buffer che allora sei riuscito a fare 9 colpi ma se devi fare l'80% ti permette 5 colpi e cominci a fare serie da 3 4 3 2 4 alla 9 serie c'è già il vomito e hai fatto un esercizio quindi andiamo avanti l'altra cosa importante da percentuale sono simali se non la so se vado oggi carico così domani carico là magari non ho neanche il diario di allenamento io non cazzo voglio andare dove cazzo non so neanche dove sto andando non so neanche non ho una logica in quello che faccio ok la frequenza il numero di sessione a settimana qui c'è chi dice 3 c'è chi dice 4 c'è chi dice 5 c'è chi dice 6 qual è la verità la verità è il discorso iniziale cioè quanto volume di lavoro mi posso dare chi sono io confronto il maratoneta se voglio fare maratoni sono uno che comincia oggi sono uno che già fa le mezze maratone sono un maratoneta sono un ultramaratoneta quindi in base a chi sono posso decidere quanti cazzo di giorni di allenare Jokovic credo che si chiami così Federer la gente lì i nomi di attendis però mi dicono cioè si sa che si allenano 6 ore al giorno tutti i giorni perché? perché sono loro se lo faccio io alla seconda ora ho già le picondilite e le pitroclite insieme anche nel braccio di là anche se non uso la racchetta per assurdo quindi le sessioni vanno messe in maniera proporzionale in base alla mia anzianità di allenamento e alla mia progressione sulla programmazione che ho fatto sono uno abituato ad andare due volte in palestra? ok perché domani posso me devo fare cinque volte alla settimana perché uno gli dice bene ma tre gli dice male ok allora adesso voglio provare a rispondere a qualche domanda perché sicuramente ne avete fatti sono tu giù a bomba fino adesso allora ma il Kong è di nuovo disponibile? il Kong ha definizione quando uscirà? allora intanto voglio vedere se vengono fuori wow che fica fa vedere i commenti Valerio vedi il Kong è di nuovo disponibile allora adesso mi fai spoilerare cioè mi fai spoilerare il Kong è una programmazione di power building che serve per crescere i muscoli è di nuovo disponibile? il Kong definizione che si chiama Beach Body Protocol è disponibile tra molto breve andiamo iniziamo sono le 21 quindi avere uno stato quindi avere uno stato di calo overreaching è normale allora Francesco Francesco ti metto qua avere un calo significa che teoricamente cioè nella teoria la tua programmazione hai tirato di più di quello che il tuo corpo è capace di fare diciamo che c'è stato un calcolo fatto male ma ci sta ci può stare ma nel momento in cui uno vede che non rende più che la performance scala che c'è svogliatezza nell'andare in palestra e proprio manca l'entusiasmo è probabile che il tuo nome è deciso e quindi allora non fai altro che calare ti fai la settimana di scarico in questo caso cosa ne pensi degli allenamenti all'alta intensità ci arrivo dopo perché se no sbagliiamo tutto quanto e adesso ci arriviamo gli allenamenti all'alta intensità comunque sono focalizzati solo su una parte dei fattori che determinano la crescita muscolare quindi dovresti avere già una risposta così scegli l'alta intensità sappi che potevi fare meglio no ma l'alta intensità a quello l'ha fatto diventare grosso a quello ma fa diventare grosso anche a me e allora a posto non hai bisogno di me non hai bisogno di nessuno ti risponde bene all'alta intensità stai diventando mistro olimpia a posto ti ti dirvi più di niente ma se non sei felice dei risultati che stai avendo con l'alta intensità fatti delle domande è sbagliata non è sbagliata è incompleta come sono incomplete altre metodiche che perché i fattori sono questi qua che stavano in campo andiamo avanti andrà salvata in streaming spero di sì che ne pensi di quello che ha detto Ludovico Lehm per i fondamentali che non servono ti scrivo un waylifter ma faccio anche stacco emosculazione lunga vita e prosperità allora per quanto riguarda il discorso dei fondamentali che non servono a queste cose qui io ho vissuto il periodo in cui i fondamentali non sapevamo neanche cos'erano il periodo in cui i fondamentali sono diventati la bibbia chi cazzo se non fai i fondamentali devi morire se è una merda adesso che ma sì no però e allora diventa un po' una provocazione ma allora solo per i powerlifter no ma allora solo per i fondamentali una tirata una tirata al mento ok loro sanno che devono mettere insieme una catena muscolare determinate leve per fare un movimento più o meno complesso che il cervello gli dice di fare per un certo numero di secondi in base alle ripetizioni con un carico che gli crea resistenza questo è ok chi vuole inserire lo stacco da terra allora lo stacco da terra uno lo fa perché allora intanto diciamo che è un pattern notorio dell'umano lo stacco da terra è quello che fa un uomo cioè il movimento della catena è quello che l'uomo fa per andare a prendere una cosa per terra il bambino gli cade il giocattolo fa stacco da terra mi cade la penna stacco da terra e via dicendo il movimento quindi è un pattern notorio che fa parte dell'umano è interessante saperlo fare bene sì perché se io mi muovo correttamente in maniera più meccanicamente corretta non credo al mio corpo non credo nelle articolazioni no posso fare come voglio sia corpo libero che con dei carichi sia tante volte che poche volte faccio un movimento fluido giusto opposto si muove una catena muscolare lo voglio fare per la performance abbiamo già risposto voglio fare la performance e facciamo a gara chi stacca di più quindi in quel caso Ludovico Lehm dice non è fondamentale valerò a dire a un powerlifter che non è fondamentale no Ludovico Lehm lo dice perché è che nella vita non serve nella vita di tutti i giorni nessuno stacca pesi da per terra c'è una legge in Italia 626 che dice che un uomo non può staccare più di 20 o 25 kg da per terra 20-25 kg cioè io ho le mie signore di 60 anni che staccano 50 kg cioè loro pesano 47 e staccano 50 kg ma per 10 colpi ok e hanno 60 anni lavorano in banca gente normale però allenata cosa vuol dire questo che l'organismo ha grandi capacità di adattamento sta meglio una signora di 60 anni che fa stacco con 50 kg di una signora che non fa un cazzo sì che sta meglio perché perché dopo 40 anni che vedo persone che chi fa l'allenamento chi non lo fa chi fa movimenti giusti corretti no e si muove si tiene movimento tiene movimento le articolazioni e i muscoli tonici non ha tutti gli acciacchi di quattro che mi fa una scheda quindi sono fondamentali l'unica cosa fondamentale cioè sono obbligatori servono tutto serve io per esempio ho passato anni a norm negli anni 80 appunto si faceva panca piana si faceva il pull up si faceva il press lo stacco da terra sì e no lo squat se si faceva e cosa ho saltato il rematore se no li facevamo un po' tutti ma li facevamo tutti perché non c'erano le macchine ok però ecco a domanda rispondo non servono se voglio non farli non morirò però insomma lo vedrei li vedo come una cosa interessante insomma da insegnare a chiunque alta intensità cedimento muscolare allora l'alta intensità attenzione a non confondere l'intensità procedimento muscolare l'intensità è la tensione meccanica io la vivo così qui adesso e qui è un altro momento in cui vorrei fare chiarezza perché la gente la gente noi italiani il casino lo creiamo con le parole l'intensità si accade questa parola intensità ognuno ognuno ha un suo concetto di intensità e pesca in base alle proprie conoscenze di parola intensità se io intendo intensità in un'altra maniera e tu intendi intensità in un'altra maniera noi usiamo le stesse parole ma non ci capiamo mai e quello che conta oltretutto non è quello che penso io e quello che pensi tu ma quello che succede al muscolo che lui non la sa neanche la parola intensità lui che per esempio non sa neanche l'italiano lui sa che fa una fatica che tipo di fatica la tensione muscolare la tensione meccanica il fatto che lui rimane sotto tensione e si deve contrarre perché la tensione potrebbe essere anche isometrica però è meglio isotonica cioè dove c'è la contrazione e poi c'è l'allungamento dovuto alla contrazione del suo antagonista ok e lui è continuamente stressato da questa tensione cedimento muscolare è una parte della tensione perché se io ti dico va bene facciamo così prendiamo un carico facciamo dieci colpi di panca alla morte ok tu fai 8 9 9 10 ok quello cedimento muscolare mettiamo che la fai pulita no no quello che sarebbe cedimento tecnico cedimento tecnico cedimento muscolare cedimento tecnico vuol dire che non è più la ripetizione pulita cedimento muscolare è che proprio non va più non va più anche qui si aprono le voragini se vogliamo ho capito cedimento tecnico vuol dire che non è più pulita cedimento muscolare lo tirate su tutti in qualche modo sono andato avanti lo stesso ecco io toglierei sta cosa qua in qualche modo sono andato avanti lo stesso non dovrebbe neanche esistere come concetto per chi se lena in palestra in qualche modo sono andato avanti lo stesso cerco di essere pulito nel movimento se non va mollo ok benissimo torniamo al discorso 10 colpi 10 colpi non ce la faccio più è cedimento muscolare no? o cedimento tecnico sì sì ma non è finita perché io posso dirvi ok adesso ti aiuto io ne facciamo altri 5 ti tolgo peso ti aiuto io e ne fai altri 5 ok poi non ce la fai più adesso facciamo negative te lo tiro su io proprio tutto di brutto e tu solo fai l'eccentrica e cerchi di resistere quindi capisci che l'intensità è ben oltre il concetto di cedimento muscolare cedimento muscolare è un tipo di intensità io posso aumentare l'intensità queste e poi in fondo ne parlavo ma mi hai anticipato tu le tecniche di intensità servono a amplificare la tensione meccanica la tensione muscolare del muscolo ok per avere più ipertrofia allora abbiamo risolto no che non l'abbiamo risolto perché noi sfigati degli anni 90 credevamo di aver capito tutto quando avevamo scoperto questa roba qua cioè delle tecniche di intensità e costruivano beh in app si spassavano addirittura c'era gente che cambiava sport perché è che vai in over ricci in over training in over di qualsiasi roba cioè non è non è sostenibile del fisico in alto è una roba del genere forse forse in maniera progressiva se ci arrivi dopo 20 anni di allenamento forse qualche outsider si può permettere quei tipi di allenamenti se non altro devi bombare devi avere un qualcosa cazzo che ti rigenera che ti accorsa i tempi di recupero e che ti ottimizza il metabolismo e che ti metti in condizioni di tenere botta se no non ce la fai ok quindi anche questo vado molto conto andiamo avanti ho 51 anni allenamenti intensi con varie tecniche di intensità meglio monomodi ecco 51 anni tieni conto che già non abbiamo più il motore di prima allenamenti abbastanza intensi dici tutto dici niente perché vieni a vedere qual è il tuo concetto di intensità io ho conosciuto persone anzi spesso non sto parlando internazionate conosco però tutte le volte che è successo a me persone mi contattavano li facevo venire al primo incontro diciamo ok vediamo per vedere un po' come sei di mobilità con la tua capacità di movimento come fai gli esercizi di schermontario proprio così e testavo diciamo il loro concetto di intensità eravamo anni luce da un lato è preservare sta roba tradotto hai 51 anni ti legni secondo te abbastanza intenso non è veramente vero che ti legni intenso però per lo meno non ti fai male quindi prima di tutto vieni a vedere se l'intensità la intendi nel modo in cui fai tesa perché appunto se usi tecniche di intensità e hai il concetto di intensità a 51 anni amore mia o ti fai le bombe o cerchi l'anima ok perché il fisico natural ripeto ancora una volta ci arriva alle tecniche di intensità ma in maniera progressiva e un po' alla volta meglio o 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 dico dopo perché se no continuo a fermarmi e non andiamo più avanti allora potresti dirci quali sono secondo te gli integratori questa non è la serata per gli integratori sto parlando per la forza in proporzione a tessere in proporzione in base in proporzione in base alla tua esperienza conta di più l'allenamento l'alimentazione ai fini dell'ipertrofia ai fini dell'ipertrofia la cosa più importante è l'allenamento non è solo l'allenamento è importante anche l'alimentazione ovviamente ok ovvio che se mangio troppo poco io mi alleno mi alleno ma il muscolo non cresce perché è come è come una casa se io ho la casa e io ho la casa e se io farei più grande mi servono due cose i mattoni per fare nuove stanze o per ingrandirla e i muratori ok allora i mattoni sono le proteine per capirci comunque il mangiare e i muratori è l'allenamento se io ho i muratori ogni giorno che vengono quindi mi alleno ogni giorno ma questi poveri muratori non gli do i mattoni che cazzo mi ingrandiscono non mi ingrandiscono niente e se io compro mattoni quindi mangio di più proteine ma non mi alleno non faccio venire i muratori tu capisci che lo succede in merca quindi è una cosa che una più o meno una cosa va arrivata però secondo me va di più ma di poco è giusto le energie 5 giorni a settimana col full body e poi fare delle settimane di scarico con 3 elementi soltanto ecco queste domande qui che mi fate e si capisce che avete confusione su quello che è il concetto della periodizzazione e dei fattori dell'ipertrofia quindi adesso mi fermo e vado avanti poi casomai riprendono ci siamo arrivati qua questa eravamo la seconda abbiamo ancora quattro fasce e poi andiamo avanti questa era la seconda fascia dove lui ha messo insieme il volume l'intensità e la frequenza volume abbiamo detto quanti esercizi faccio per sessione quante serie quante ripetizioni le ripetizioni sono in base a quanti chili voglio adoperare che sono in base alla percentuale del mio massimale faccio una sessione tutta l'80% faccio una sessione tutta il santa faccio una sessione e via allora nel caso del bodybuilding vi do io la risposta dopo anni in ogni sessione sarebbe cosa buona e giusta vostro dovere fonte di salvezza di metterci dentro un po' di tutto si comincia sempre con uno o due esercizi duri pesanti che sono fondamentali poi faccio due tre esercizi a seconda di quanto mi posso per me per stare in palestra mediamente pesanti quindi su 70-75 e poi faccio due esercizi tre più leggeri e a giro quello che oggi era pesante domani sarà meglio una volta dopo sarà leggero quello che oggi era meglio domani sarà leggero sarà pesante e gli do questi giri qua in maniera che faccio girare la ruota giro la ruota e alleno i miei muscoli in tutte e tre le maniere per non parlare troppo difficile perché se dopo metto a parlare di miofibrillare sarcoplasmatico mitocondriale ci capiamo in quattro quelli che sanno le cose quanto me ma io questa sera volevo spiegarle a chi non ci capisce quindi se mi cominciamo a parlare con le parole difficili vi perdete per strada ok vi basta sapere o diventate trainer allora studiate ma non è quella diretta mia che risolviamo la cosa se no intanto vi basta sapere che il muscolo va allenato pesante mediamente pesante e leggero posso avere una bottiglietta d'acqua che ho le croste nelle labbra e poi il numero di sessione a settimana l'idea 4 dopo le anni che mi alleno ho provato tre volte o più tre volte anche lo prendiamo in considerazione a parte qualcuno che è convinto che allenarsi due volte la settimana in heavy duty ti dà i risultati che io vorrei dirgli ma dove cazzo li hai visti i risultati a parte che non li vediamo neanche subito a allenarsi ad alta intensità ad alta intensità si può allenare uno su mille ok soprattutto se la frequenza è così bassa a parte che neanche Mike Menz si è allenato a settimana quello che si crede in realtà non è così quindi tre volte uomo quattro ideale cinque meglio di tutto meglio di tutto cinque ovviamente comincia già a essere importante ok comincia già a essere un atleta di un certo livello sei che altro sono un professionista sette sono un coglione sette no io le persone che hanno il cervello acceso non si allenano sette volte a settimana io ho amici che fanno le olimpiadi ovviamente non di qua di biling gente che si allena cinque sei ore al giorno ma un giorno a settimana delle volte due la seconda appunto di come è la periodizzazione scarico cioè zero vediamo fascia tre la fascia tre sono le progressioni ecco questo è un altro punto cardine dove la gente si perde la progressione se io ho una scheda fatta in un modo chiunque io sia qualunque sia quella scheda il mio corpo si abitua a farla io devo progredire cosa vuol dire progredire devo cambiare dei valori devo cambiare dei parametri che sono quelli che abbiamo appena detto di solito sono quelli delle serie del numero delle serie del numero delle ripetizioni e delle percentuali di carico ovvio che non può essere una linea come si dice direttamente proporzionale no deve essere a onde vado su e poi scarico e prendo un po' d'aria perché non posso come ho detto prima tenere sempre la tavola di tavolo vado su e un po' scarico quindi le progressioni sono importanti mi devo programmare ecco perché si parla di programmazione un po' di video a me le persone che hanno la scheda che scheda hai questa ma la programmazione no la scheda come la scheda zia bene cioè prima cioè cosa hai fatto prima è un'altra scheda ma era collegata a questa e lì già ti guardi collegata come collegata sì cioè quello che hai fatto prima era in relazione a quello che stai facendo adesso 50% delle persone ti guardano così con l'occhio a mezz'asta tipo Isidoro e non sanno più cosa devono dire qualcuno dice no no sì sì la progressione non ha capito un cazzo ma siccome si deve dare un contegno e non vuole fare la figura del cretino ti dice così tu per buona no io non gli dico io gli dico ah sì e la progressione qual è perché allora dopo le difficoltà non ha senso qualcuno va in progressione bisogna stare attenti appunto con le progressioni perché come ha detto prima il ragazzo può essere che vado in overreaching sì può essere se hai sbagliato appunto a calcolare le progressioni quindi anche le progressioni vanno gestite in maniera diciamo consapevole qui gioca tantissimo l'esperienza voi capite benissimo che lo scienze motorie di turno o il personal trainer che ha fatto il corso per quanto bravo sia per quanto si si dà da fare se non ha l'esperienza la scheda l'ha copiata da quella che ha imparato nel corso ha preso una scheda base e poi si fa l'esperienza sul cliente i primi clienti hanno da cavia io delle volte ho fatto degli errori anch'io perché non ero abbastanza attento andiamo avanti l'altra è la selezione degli esercizi allora vedete che nelle fotografie qui io ho messo sempre lo cioè un esercizio di gambe in mezzo c'è lo squat a sinistra c'è lo squat con il multi power e a destra c'è la leg press sono sempre è sempre una cosciata se vogliamo però sono tre esercizi diversi questo si riprenderebbe a quello che avevo detto prima io devo selezionare l'esercizio in base a come vado bene io non sono bravo a fare squat io non mi metterò mai sotto un carico importante di squat perché cazzo non lo so neanche fare e quindi certo che vado a imparare lo squat però finché lo imparo e quindi non mi posso permettere di lavorare intenso o di lavorare con carichi importanti all'80 85% io vado con la leg press o col multi power e vaffanculo perché perché se succede qualcosa metto giù e non si ammazza nessuno ma lui dice ah ma c'è il mio amico che mi sta dietro il mio amico sta a sega perché c'è anche un blocco psicologico un blocco mentale e se per caso il mio amico non mi tiene e se per caso mi alleno da solo io per esempio mi alleno da solo io non ho nessuno che mi sta dietro le spalle si potrei avere mia moglie ma te la vedi mia moglie che sta dietro a 140 kg di squat ci uccidiamo in due e io ho un blocco quindi non vado giù invece monto nella pressa e chi cazzo se ne frega spingo cazzo spingo alla morte perché perché non mi può succedere niente al limite resterò lì ok quindi è importante scegliere gli esercizi perché bisogna saperlo fare bene l'esercizio e saperlo fare pesante quindi delle volte uno dice ah no poi ho squat all'85% e poi vedi gente cazzo che va giù di un quarto perché vai giù perché non sei da giù eh avevo paura di restare sotto ma va a fanculo allora togli il peso per dire ok questo è importante la situazione degli esercizi il posto tra le serie anche questo è importante il riposo tra le serie e qui c'è la confusione no perché siamo stati abituati con i numeri un minuto due minuti tre minuti questa è una come si può dire una convenzione una convenzione mentale del tempo il tempo lo abbiamo inventato noi no abbiamo cercato di capire un po' come funzionava il giorno solare l'ora 24 ore le dividiamo in 60 minuti un'ora e allora il minuto è questo periodo qui che sono 60 secondi insomma chi si è inventato l'orologio ha fatto il concetto del tempo perché avevamo bisogno comunque di avere una misura ok perfetto però ognuno di noi allora quello che ho capito io in 40 anni è che senza il discorso i muscoli non sanno leggere l'orologio ok non lo sanno leggere quindi io l'orologio lo tengo lo stesso per avere io una misura so che è passato un minuto ok tipo delle volte può succedere il mio successo che mi sento riposato ho fretta che ne so mi viene da andare sotto guardo 47 secondi 47 secondi non ho recuperato niente ok ma se non avessi guardato magari sarei andato sotto magari l'avrei fatta bene nello stesso la serie o magari no perché non avevo recuperato abbastanza ok due minuti delle volte succede che mi metto penso che mi distrago magari mi metto a chiacchierare con un'altra persona o magari anch'io da cretino perché vado col telefonino e mi metto a picciottare col telefonino quando invece uno dovrebbe allenarsi poi il diario di allenamento in mano e basta e dopo ah cazzo sono passati quattro minuti e mezzo ok vabbè mi sono riposato di più quindi il riposo per serie ha senso perché se ne faccio troppo poco io perdo in performance se io faccio troppo a lungo a parte che sto in palestra due ore potrei anche raffreddarmi mi è successo rarissimamente di vedere qualcuno che facendo tempi di recupero troppo lunghi poi si è strappato o si è stirato un muscolo perché si era raffreddato che successe a me ma ancora con le arti marziali mi ricordo vabbè che hanno altri tempi stavo facendo tutta una serie di calci alti sono stato fermo un po' troppo tipo mi sembra 6-7 minuti e poi ho ripreso a fare calci alti e mi sono stirato l'aduttore perché? perché si era raffreddato il muscolo ok quindi il riposo a serie è importante diciamo che si considera riposo completo oltre i due minuti tre minuti meglio i powerlifter quelli pesanti fanno tranquillamente anche cinque minuti tra una serie e l'altra ma lasciamo stare le persone altamente specializzate diciamo che un minuto è il minimo sindacabile però con un minuto se ti alleni serio per l'ipertrofia ti garantisco che ti spacca crea un'intensità pazzesca e arrivi veramente rovinato alla quarta quinta serie non riesci più a chiudere le ripetizioni perché? perché è un recupero si dice incompleto ok quindi sai già io per esempio ho un minuto e mezzo due minuti sto però ha un suo fattore di importanza il recupero ok ed è il penultimo gradino e l'ultimo è il time under tension cioè quanto tempo ci metto io a fare una ripetizione ci metto nel terli pretrofia qual è il tempo migliore qui nel corso del tempo ho sentito dire parecchie varianti ok no bisogna andare lenti bisogna fare lento proprio tipo c'era chi diceva cinque secondi a scendere due secondi fermo in peak contraction e cinque a salire o un po' contare insomma a seconda del movimento e perché perché andava di moda così l'aveva detto un grosso cazzo siccome l'ha detto lui allora lo facevano tutti ma non sapevano perché ok allora siccome è noiosissimo e comunque cala il peso drasticamente cioè devi andare molto più per avere peso molto più bassi perché il movimento cazzo il peso è molto più pesante la percezione e allora c'era chi faceva misto faceva tipo doveva fare dieci colpi faceva i primi due colpi veloci i tre centrali i primi tre colpi veloci i tre centrali lenti e poi gli ultimi tre o gli ultimi tre quattro insomma veloci c'era sto ibrido perché appunto diventa noiosissimo allenarsi tutto in time under tension poi c'è stato il momento in cui si faceva fare il time under tension i principianti eh lo sai fare il movimento lo devi fare piano devi imparare il movimento quello che ci sta anche no come incipit ci sta comunque senza fare un simposio sul time under tension per l'ipertrofia la cadenza è questa qua 3-0 x-0 3 è i secondi in teoria in cui io faccio la fase di la fase eccentrica che è quella dove carico il peso adesso nel caso dello squat è mentre scendo nel caso della panca è mentre arrivo al petto nel caso del pull up è quando scendo giù cioè quando solo io devo resistere al peso che tanto comunque sto fermo zero in fase in fondo in fase massima contrazione e x faccio esplosiva la fase di contrazione quindi il ragionamento è che esistitio sto facendo carl per bicipiti qual è la contrazione nei bicipiti quando piego perfetto allora piego esplosivo zero tempo stare qua vado giù lento uno due tre sto zero tempo sotto esplosivo esplosivo lento indietro esplosivo lento indietro tricipiti esplosivo lento rientro e avanti così questo è il tempo migliore per gestire la ripetizione per quanto riguarda il discorso per ipertrofia tutto qui allora questa è la piramide di elise questi sono gli ingredienti che servono per gestire in maniera perfetta un percorso di ipertrofia e la monofrequenza qualcuno mi dirà non hai parlato della monofrequenza mi dica qualcuno prima ha fatto la domanda qui ho fatto tutta una bella fila di culturisti degli anni 80 ok questi erano tutti i culturisti mister olimpia degli anni 80 tutta sta gente qua si allenava in monofrequenza allora voi direte ma coppano enormi allora va bene la monofrequenza torniamo al solito discorso i muscoli non sanno cos'è monofrequenza e la monofrequenza si sono inventata noi monofrequenza vuol dire alleni muscoli una volta la settimana perché? è perché se gli alleni due volte la settimana si bruciano si dicevano è perché dopo si bruciano non tengono la mano si cagano il corpo non lo sa si faceva la monofrequenza perché si divideva il corpo per muscoli cioè in parti no? petto spalle tricipiti dorsali bicipiti femorali gambe quadricipiti polpacci addominali si faceva e si divideva ognuno aveva il modo suo c'è chi faceva gli antagonisti c'è chi faceva la parte sopra c'è la parte sopra ognuno c'era la sua il punto qual era? che facevano volumi alti di lavoro cioè facevano tante serie io per esempio arrivavo a fare tranquillamente appunto 15-20-25 serie per un muscolo è ovvio che se faccio 25 serie per il pettorale allora non fai 25 serie di panca cominciamo a fare 5 esercizi uno diverso dall'altro per il pettorale da 5 serie ogni esercizio da magari 8-12 cose perché a tempo appunto ragionavamo tutti solo ipertrofia solo lavorare lavori al 70-75% del massimale senza neanche saperne strada qua però facevano così e tu capisci che cominci a avere 25 serie metti anche un minuto solo di recupero fra una serie e l'altra di 5 esercizi diversi hai 25 minuti in cui tu sai cosa quindi mezz'ora è andata solo lì più quasi un'altra mezz'ora per fare quello lì hai fatto un muscolo tu capisci che stai un'ora e mezza in palestra e fai tre muscoli per questo esiste la mano quindi perché a un certo punto il corpo non ne può più cioè sono stanco è inutile che rimango lì ancora perché se non sono se il mio corpo non si è adattato se io non sono capace di tenere botta dopo un'ora e mezza comincia a andare giù la mia energia tutti i muscoli che farò da un'ora e mezza in poi tutti gli esercizi che farò da un'ora e mezza in poi non li spingerei mai come se li facessi all'inizio seduta quando arrivo che sono bello fresco ok quindi ecco perché esisteva la monoproquenza che si facevano altissimi volumi di lavoro però lascia il tempo che trova perché come ci arrivi lì a fare quel volume di lavoro se abbiamo detto che comincio col 3x10 con una o due serie per scusa una o due serie tre serie con uno o due esercizi per gruppo muscolare e da lì costruisco da davanti prima di passare in monofrequenza ce ne hai di voglia ok poi una scelta perché a giorno d'oggi ancora trovi sì perché prima tutti la monofrequenza poi il trend del est è diventato la multifrequenza allora se adesso dici multifrequenza se dici monofrequenza sei un po' fuori dal gruppo no come per dire e siccome nessuno vuole essere nell'errore cioè chi dice che vorrebbe dire che lui preferisce la monofrequenza ma ha paura di essere bannato non so dall'universo delle palestre allora dice sì la multifrequenza tuttavia io trovo utile mettere la monofrequenza durante la programmazione annuale cioè dice quello che mente lui no però si fa il culo e vuole fare bella figura ma non hai capito neanche tu allora perché devi fare la monofrequenza alla monofrequenza cioè do uno stimolo diverso al muscolo e questa qua ti mettono sempre a posto è come quando il dottore non sa perché hai una cosa se hai lo stress quando non sanno cosa dire do uno stimolo diverso al muscolo è diverso al cazzo allora ma perché stiamo qua a studiarci sopra vai in palestra fai come cazzo te pare do uno stimolo diverso al muscolo io c'ho un amico che magari mi starà guardando che lui non segue un cazzo di niente e tutti nello stesso tempo lui va su youtube no vede uno che fa una roba la fa anche lui così di brutto e poi mi scrive sai ho fatto 22 serie di pull up come faceva quello là di quella e devo dire che effettivamente ne ho sentite zio caro la credo ma sai ho fatto quella roba lì con i bicipiti che non avevo mai fatto e devo dire che li ho sentiti certo che li hai sentiti diciamo che ti sei divertito hai sentito perché fai sempre delle soluzioni diverse ma io che ti conosco da cinque anni che si sempre compagno scusate gli ha detto vento sei sempre uguale cazzo sei uguale uguale non sei né più forte né più grosso né più definito niente uguale però ti diverti ok tutto qui ancora e le tecniche di intensità il prestancaggio il respose lo stripping o drop set perché adesso stripping ripetizioni negative forzate era questo prima il concetto dell'intensità il concetto della tensione meccanica della tensione muscolare che viene impressa al muscolo questo è il trucco peccato che se tu fai così te lo devi poter permettere e la gente invece lo fa perché ha visto il giornale perché ha visto il video di quello perché gliel'ha detto quell'altro che gliel'ha detto il più grosso o perché gli sembra che fanno i fighi ma non state seguendo una logica se seguite la logica riuscirete ad avere più risultati nel lungo i muscoli resteranno meglio non avrete infortuni e soprattutto non avete bisogno di farvi le bombe ma comunque sarebbero anche lì tutto qui è i metodi è l'heavy duty è il metodo è il metodo è il German Volumes Training è il metodo Hatfield anche lì perché in quei tempi come ho detto all'inizio chi creava il metodo aveva scoperto che su di lui funzionava e lo proponeva ma lui era un outsider di cui abbiamo non a caso tre persone non a caso quello sotto è Rick Menzer heavy duty quindi allenamenti intensissimi poche ripetizioni con mille tecniche di intensità un Sergio Loubrecht che faceva 25 ripetizioni di pettorali ok le panca e una marea di serie 25-30 serie per le gambe e l'altro è Hatfield che è un powerlifter famosissimo è stato ok tre metodi completamente diversi ho conosciuto decine di persone ho allenato io persone usando tutti questi metodi ma mi sono allenato io usando questi metodi ok che cosa mi sono portato a casa che non avevi capito se avevi trovato il bandolo della matassa oppure no lo facevi perché ti piaceva lo facevi perché ci credevi lo facevi perché volevi vedere dove portava ma no perché avevi capito che è come funzionava la storia addirittura come facevamo il sistema di Hatfield noi avevamo facevamo delle cazzate in mani perché facevamo l'avamo interpretato cioè l'avamo interpretato in una maniera sbagliata lui dice devi perché lui parlava vedi adesso mi metto a parlare del sistema di Hatfield adesso però anche quello devi capire come interpretarlo bene tutto quindi è tutto si fa tutto alla tensione muscolare ma la percezione della fatica è l'adattamento neurogeno è l'adattamento tendinio e le enfiobille e il sarcoplasma e i mitocondri queste sono le domande che si fanno chi ha voglia di capire ok se no uno si ferma lì la percezione della fatica è data da chi sei tu se tu sei uno abituato a sputare sangue sopra pesi pesantissimi la tua percezione della fatica è diversa dalla signora Maria che arriva in palestra o dal principale che non ha mai messo il bilanciere sulle spalle e quando solo che sente il bilanciere qui sotto la settima cervicale dice oh madonna mia sento no no mi fa male non so se mi sia mai successo a me mi succede ho clienti che vogliono il come si chiama il cuscinetto perché gli fa male il bilanciere e quello vuoi fare gli metti il cuscinetto ok quindi la percezione della fatica è una cosa soggettiva più la tua percezione della fatica è come si dice alta inteso riesco a gestire la fatica e meglio sarà la tensione muscolare l'adattamento neurogeno l'adattamento neurogeno è l'adattamento del sistema nervoso soprattutto a carico del sistema nervoso periferico cioè del corpo che ti dice c'è una donna che fatica a fare sta roba anche quella roba lì fa parte di quanto uno riesce a creare tensione muscolare perché si prende una persona che non è abituata a spingere quando il peso comincia a diventare faticoso mette giù cazzo non ce la faccio più come ce la fai più no non ce la facevo più e te non hai spinto niente cioè fino adesso andavi perché sì perché era ampiamente nelle tue capacità ma io non ho mai visto quando io quando io gli bestemmio dietro le donne fanno degli urli però dopo sono contenti però però hai anche tirato sui 100 kg di squat l'adattamento tendine è un'altra cosa che la gente i tendini giusto cazzo ci sono anche i tendini cioè ci sono i tendini i tendini hanno un adattamento un po' più lento rispetto al muscolo vanno allenati anche i tendini i tendini si allenano sia col time under tension per esempio e sia facendo allenamento con carichi pesanti importando che quello e il sarcoplasma e le miofibrili mitocondi sono parte della cellula adesso anche qui potremmo stare qui ma queste sono domande che io ho messo qui dentro per farvi capire che l'attenzione muscolare è un insieme di tutte ste robe qua ok le miofibrille diciamo sono più reclutate con carichi pesanti sull'80% il sarcoplasma viene più preso in ballo con carichi medi i mitocondi con carichi leggeri ma tuttavia anche con carichi leggeri io comunque attivo anche le miofibrille i nostri attenti a ragionare a comparti stagni comunque il corpo si mette tutto in moto è che ovviamente se faccio un tipo di allenamento un tipo di sollecitazione lui si adatta e si trasforma si plasma esteticamente in una certa maniera anzi in un certo e questo è il motivo per cui il powerlifter è molto forte ma non ha i volumi no appunto perché il sarcoplasma non è attivato diciamo è sviluppato nel powerlift come lo è il culturista e lo stesso vale se dire per i mitocondri potrei dire il maratonetta contro il centometrista il centometrista ha molte più miofibrille nelle sue cellule muscolari rispetto alla maratonetta che ha molte più mitocondri quanti chili posso crescere questa è un'altra cosa che penso che interessi un po' a tutti insomma qui io ovviamente sono l'ultimo arrivato posso semplicemente confermare in base ai miei 40 anni di esperienza quello che ho visto in base a quello che due persone due studiosi americani due appassionati di bodybuilding due guru uno è Aragon e l'altro è McDonald's no? quello dei panini McDonald's Lyle Lille Lyle McDonald's che il primo dice il primo anno che ti alleni puoi prendere fino a 10 kg attenzione puoi prendere fino a 10 kg ma ne prendi due perché sei sfigato sfigato non sei sfigato nessuno sfigato perché non sei dotato geneticamente o perché non hai capito come ti alleni può essere però che puoi prendere fino a 10 kg l'altro invece dice si prende l'1 1,5% del peso corporeo quindi al mese quindi facciamo un principiante pesa 60 kg potrebbe pesare 70 kg dopo un anno quindi hai preso 1 kg al mese e l'altro dice prendi l'1% del tuo peso corporeo quindi 7 etti in 12 mesi che sono lo stesso 8 kg e mezzo quindi tutti e due partendo da concetti diversi poi alla fine si portano alla stessa realtà io che ho visto da 40 anni gente che si allena posso confermare che queste affermazioni sono attendibili questo vale per i principianti invece per gli intermedi si cala si passa a 5 kg 10 kg primo anno 5 kg secondo già calmino però sarebbero già 15 kg mi vedendo scherzando in due anni per assurdo questi sono veramente pochi ma sono anche veramente pochi quelli che si sanno allenare come mi raccomando e da 0,5 a 1 del peso del peso corporeo e invece gli avanzati massimo da 3 kg o 0 ok uno come me sono avanzato 0 in realtà io adesso posso prendere i kg perché ho perduto tanti kg con l'operazione 15 kg quindi ci sta che il mio muscolo è svuotato e si riempie di glicogeno il glicogeno pesa quindi sulla bilancia il mio peso era 98 100 sono là sono calato a 5 adesso sono a 92 ma è auspicabile che io tornero a 98 perché ero già là un altro della mia età che fosse operato al cuore come me tornerebbe come era prima ma non è che ne prendo più poi c'è il discorso dell'alimentazione però stasera ci fermiamo con l'allenamento perché sono un'ora e mezza che sto parlando e siete stati anche bravi a stare con me fino adesso ancora due o tre cose importanti vi riapro questo perché è una cosa che penso che vi interessa tutti che cosa cambia col doping? allora intanto che cos'è il doping? giusto perché ce l'abbiamo tutti chiari c'è scritto assunzione volontaria di farmaci o di sostanze proibite dal Comitato Internazionale Olimpico o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche è idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'organismo quindi sono farmaci con effetti collaterali che appunto alterano e in questo caso rinforzano infatti perché si fa il doping? sostanzialmente per accorciare i tempi del risultato se da natura ci metto un anno a prendere 10 kg da principiante col doping ci metto due mesi per dire e per andare oltre le umane possibilità cioè io riesco ad avere dei volumi che l'umano non può avere divento Hulk grosso come Hulk però sappiamo che Hulk è un fumetto oppure appunto un culturista che fa uso di doping come agisce il doping nel corpo? ottimizza la sintesi proteica e il metabolismo provocando un senso di sicurezza e di forza diminuisce la percezione della fatica vedete che ci ritorniamo a quello che ho detto prima cioè un senso di sicurezza e di forza e diminuisce la percezione della fatica significa che io che mi bombo e tu che non ti bombi andiamo a fare lo squat con un peso pesante la mia sensazione di sicurezza e di forza e la mia diminuzione di percezione della fatica perché quando c'è da spingere spingo vaffanculo spacco tutto e tu invece dici è un approccio diverso quindi dà anche una impostazione psicologica diversa oltre che ripeto ad ottimizzare la sintesi proteica perché cioè prima mangiare in un certo modo avevi un certo tipo di risposta poi mangi esattamente come prima zio can funziona tutto meglio il muscolo proprio lo vedi è più pieno più vivo la vena è più alta cioè cambi ok questo è quanto quindi questo permette di protrarre più a lungo lo sforzo e i principi fisiologici però rimangono gli stessi però vengono ampliati ok non è che vengono stravolti cioè vengono stravolti nel senso che vengono ampliati non è che cambia perché il doping fa male lo ricordiamo ah premetto queste cose qui le ho scritte perché le ho riscontrate nella mia esperienza ok io ho fatto doping dal 91 fino non ricordo più fino al 95 poi ho smetto poi ho ripreso poi ho attaccato nel 2007 quindi ho avuto la mia bella esperienza e quindi posso e poi ho conosciuto decine e decine di persone che hanno fatto questa esperienza quindi posso dire con molta tranquillità cosa succede come funziona cosa fa e quindi l'ormone della crescita può portare al diabete e fa aumentare il rischio del tumore a chi è predisposto gli steroidi anabolizzanti possono determinare la disfunzione erettile ma anche infertilità e sterilità gravi danni epatici e renali sempre a chi è predisposto e possono incrementare il rischio di contrarre malattie cardiovascolari le pratiche dopanti nelle donne possono avere effetti virilizzanti e l'alterazione del ciclo misturale e in sterilità perdita di capelli e il sutismo quello dopo è la domanda e risposta che adesso le faccio però prima voglio darvi la mia soluzione al problema perché abbiamo parlato di cosa fa crescere i muscoli vi ho detto tutta sta papardella di fattori che sono da mettere insieme e però visto che sono quattro anni che io ho messo online il con program vi do queste informazioni cioè io faccio col turismo ho fatto col turismo dal 1980 a venire in qua nel 2007 ho fatto le gare ritengo che sia una disciplina assolutamente interessante e piacevole mi rendo conto di tutti gli errori che ho fatto io degli errori che fanno gli altri quattro anni fa anzi sei anni fa per esattezza sei sette anni fa ho cominciato a pensare quale potesse essere una programmazione online che la gente poteva fare con i controcoglioni ok ci ho studiato sopra due anni quattro anni fa ho mandato fuori il cong 1.0 due anni fa il cong 2.0 adesso in agosto il cong compie quattro anni è una programmazione che ha esattamente tutti i fattori che vi ho raccontato fino adesso ci sono delle cose dove ha un punto debole tipo il cong non è su misura cioè non è che valuta gli esercizi in base a chi sei tu e non è neanche che valuta il volume di lavoro in base a chi sei tu è una programmazione per avanzati non è per tutti è per gli avanzati uno che ha già sparato tutto e che dice ma io adesso da qui non mi muovo ho bisogno di qualcosa che mi dia altri risultati ecco è per quella gente lì non è per il principiante è per gente che sa lavorare con pesi pesanti che sa che cos'è un massimale che sa fare i suoi calcoli e che vuole una programmazione sfida ok è la programmazione più dura dal punto di vista di volume e intensità che io ho visto confrontandomi con persone che fanno bodybuilding natural da anni, da decenni e parlando con persone che sono a livello mondiale ok quindi più del Kong vuol dire essere outsider meno del Kong è un'altra programmazione di powerbuilding ma è come dire per gli scalatori fare, scalare l'everest scalare il k2 cioè ti fai una una programmazione che sai che c'ha tutti i crismi per riuscire ad avere risultati dove sembrava che non ne vissero più detto ciò quello che differenzia il Kong da tutti gli altri è che è una programmazione con 5 versioni c'è il classico che vale per un anno l'over 50 l'home edition il pink che è per le donne e sono manubri l'over 50 l'home e il pink sono per 6 mesi e invece i manubri ho 4 perché dopo 4 mesi dai manubri comunque non gli dai più fuori è stata la prima programmazione con la web app quindi ce l'hai sul telefono e te la puoi stare tranquillamente in palestra che dopo è stata copiata da altre più o meno di enti conosciuti ma comunque sono arrivati tutti dopo ci sono i tools per gestire l'alimentazione è appunto la più dura di tutte di quelle che sono invenite in Italia e io lo so perché da brava spia industriale o chi insomma compra e mi fa vedere cosa fa la concorrenza quindi questa è una sfida per chi vuole una sfida infatti c'è anche la coppa finale chi ci arriva l'unica punto del premio finale e la novità da adesso da agosto è che ho attaccato anche l'assistenza Whatsapp e costa come una brioche una brioche costa un euro e due quindi se voi siete capaci di spendere un euro e due al giorno per una brioche per dire è lo stesso costo della 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 programmazione a questo punto io posso rispondere alle domande se non vi addormentate se non vi andate prima allora vediamo un po' dove eravamo arrivati intanto ditemi se vi è se vi è tornata utile questa questa maratona di di diretto oppure no adesso cavami una curiosità di dove sei sono di Vicenza ciao Luigi ho la tua stessa età e da un po' ho terminato la ricomponizione corporea ottenendo ottimi risultati ora per fatica ora per fatica a prendere peso questione di età qualche consiglio grazie mille Fabio allora l'età è la mia quindi 58 fai fatica a prendere peso beh è presumibile data l'età tuttavia non lo sai finché non provi io quando ho stilato il Congo over 50 l'ho pensato per chi come noi vuole portarsi a casa ancora un chilo due chili a seconda della persona ok non ti ovviamente ti posso dire che c'è stato qualcuno della nostra età che è andato su 4-5 chili allora ti dici ma come ma non c'è la sarcopenia ma non c'è il testosterone che cala sì nella teoria c'è chi magari più sfigato ha più sarcopenia c'è chi ce ne ha meno c'è chi ne ha quasi niente c'è chi ha il testosterone basso da quando aveva 30 anni c'è chi invece ce l'ha un po' più alto ma tuttavia soprattutto c'è chi non si è mai allenato in un certo modo quindi il corpo comunque reagisce bene ok nonostante l'età quindi io dico prima di chiudere baracca a bottega provo provo se so che c'è una programmazione che mi dà l'opportunità di tirare fuori tutto quello che posso tirar fuori la uso in questo caso io questo ti posso consigliare cioè conosco la mia non conosco altre programmazioni online pensate per gli over 50 ricordiamoci che over 50 non sei più quello di prima io se mi metto a fare il cong classic io cerco rogna cerco rogna io riesco a stare dietro all'alcon 50 cioè quando l'ho fatto era tutto me ok allora anche per Nanced certo io infatti ho ovviamente tutti i miei amici Nanced che purtroppo sono bloccati con le convinzioni no perché sono attaccati a un mondo che non studia tanto i principi fisiologici di crescita perché perché appunto sono in Nanced faccio più facile cosa ho detto all'inizio faccio più facile no cioè tanto c'ho 200 milligrammi di cipionato 200 de deca e 200 de tanto adesso va tutto 200 anzi ho visto quelle ultime ci sono gli ultimi steroidi ho visto testosterone inantato a 500 milligrammi dosato a 1 ml cioè bombe atomiche veramente e uno diceva tanto c'ho quello lì il problema è che ti siedi un po' sugli allori e potresti avere veramente tanti 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 risultati tanto uno che ha deciso di farci la bomba è deciso lo stesso almeno che tiri su il top cazzo sì i Nanced volano allora sicuramente interessantissimo il tempo è volato beh sono contento andiamo in su ci sono le barre di sicurezza nel rec sì è vero ci sono le barre di sicurezza però è sempre una questione psicologica tu quando ti su tanto carico ti giri di restare sotto cioè vai anche fuori male puoi anche restare sotto male poi ho oltretutto uno come me che va in buca vabbè tu dici le tengo basse basse però va bene è normale che la progressione è più facile nei fondamentali messi all'inizio allenamento piuttosto che per tutti gli altri esercizi della seduta allora gli esercizi fondamentali vanno sempre messi all'inizio della seduta gli esercizi fondamentali li vedrei appunto solo per allenamenti pesanti quindi sull'80% 80-85% del massimale a buffer quindi se posso fare 5-6 ripetizioni in tutto non farò mai il cedimento faccio sempre tranquillamente due di buffer ok poi a seconda di quanto volume faccio anche lì diventa ma infatti nel Kong tutte queste cose qua poi sono previste e sono spiegate anche nel video tutorial perché lì nasce il bello cioè quando io lavoro col fondamentale e lavoro pesante le faccio in buffer perfetto e questa è la teoria ma quanto volume faccio? 2-3 serie ok? e dove vado? dove vado? a farmi male cioè a non farmi male quindi fino a 2-3 sono bravi tutti quando comincio a mettere 5-6-8 serie pesanti da 2-3 è vero che c'avevo il buffer ma la quinta la sesta la settima c'ho un volume di lavoro davanti di serie e praticamente tre colpi sono già cedimento a sto punto allora vedi che comunque sto già comunque mistando un concetto di allenamento a buffer con un concetto di allenamento a cedimento muscolare e qui solo uno che ha fatto tanti anni tipo io dico chi è che l'ha detto che bisogna fare tutto a buffer il buffer lo dice la parola è sicurezza per non farmi male è sicurezza perché se no non miglioro ma se su 7-8 serie ne faccio 5 a buffer una quasi a cedimento le ultime due a cedimento io ho comunque lavorato con la tensione muscolare ho lavorato sia la parte cioè ho dato una spinta neurogena quindi ho dato una sollecitazione anche tendinea della forza neurale neurogena e anche di tensione meccanica vera e propria con un pesone per una o due ripetizioni ok qui andiamo già a vedere a spaccare il capello in quattro è normale che la proprima no l'ho già detto quanto glucosio bisogna assumere prima dell'allenamento con i pesi per saturare al minimo i muscoli in definizione allora queste sono le domande che valgono solo nella teoria tu pensa che se tu ti focalizzi sul quanto glucosio bisogna assumere prima dell'allenamento con i pesi per saturare al minimo i muscoli in definizione allora i muscoli in definizione cosa vuol dire che sei in ipocalorica perché se sono in definizione sono in ipocalorica quindi io dovrei pensare al glucosio che è la divisione cioè quello che il corpo si tiene alla fine dei cibi quindi io tengo conto dei macro e nei macro tengo conto dei carbo cosa devo fare devo assumere glucosio puro prima dell'allenamento ma quanto prima perché in quanto tempo il glucosio entra in circolo due minuti cinque minuti tre minuti ma allora lo prendo prima di che cosa prima dell'allenamento e se poi lo scuoto faccio dopo dodici minuti il glucosio è già andato no è ancora nel sangue ma chi me l'ha detto ah ma perché sai mi sono fatto in Torino cosa ho guardato la glicemia ah e cosa te la guardi ogni minuto e mezzo e se poi cala ma aspetta ma se la glicemia non è andata su e quindi non ha il glucosio nel sangue cosa faccio aspetto di fare lo scuoto allora vado lì e dico no scusa aspetta dovevo far scuoto però aspetta un attimo che adesso controllo la glicemia e ancora 45 secoli cioè capisci cioè queste sono domande che vanno bene non neanche come agli esami di chi nella nella vita reale non ha senso non ha senso cioè uno che si vuole allenare bene si vuole allenare bene uno vuole diventare matto con i calcoli prima di allenarsi fa una domanda così ma non voglio offenderti voglio ragionare con te voglio farti ragionare su cosa ha senso e cosa diventa assurdo capito? questo è il concetto allora secondo te sarà meglio fare lo squat scalzo o con le five fingers o con una sneakers o ma sarà meglio il pavimento quello che fanno adesso a quadratoni o una pedana da stacco capisci? stiamo parlando di robe ragazzi miei è normale no questo l'abbiamo già detto l'abbiamo già detto puoi approfondire se sai qualcosa Mike Manzer ci era o ci faceva molti dicono che parlava così ma realmente si allenava con molto più frequenza bodybuilder preferito d'Orient sì Mike Manzer in realtà si allenava più di quello che diceva è che aveva mutato fuori questo sistema heavy duty dove diceva che bisognava allenarsi poco e siccome già al tempo c'era la gente che non voleva fare un cazzo lui aveva capito che si diceva allenati poco prendeva tutto un target di persone dice ma adesso parte le nasci poco io c'è un amico che porta in giro non faccio l'impero perché però lui è convinto cioè lui dice veramente di tutti lo possono fare tutti ma come lo possono far tutti veramente di tutti devi essere uno avanzato ci siamo conosciuti in palestra faccio allenamenti focalizzati sulla forza sono dimagrito di 5 kg ma alzo gli stessi pesi di prima ottimo ma è normale eh sì felice sì perché vuol dire che l'energia che hai cioè hai una capacità neurale di spingere sul vuol dire che il carico è anche tua portata ci sono persone che diventano addirittura più forti in periodo di definizione quando perdono chi ma lì faremo stare qua a parlare di due ore attualmente si ha lavorato sul full body tre volte la prima con esercizi in 5x5 la seconda sedute con 8x10 e la terza settimana ecco questo che fai tu Alessandro ti metto in vista questo che fai tu è una interpretazione del metodo Hatfield ok 5x5 stai allenando stai facendo un certo tipo di sollecitazione 8x10 è un altro tipo di sollecitazione e fine esercizi ad alte ripetizioni è un'altra sollecitazione è meglio farle a sessioni divise nella mia esperienza no però non ho la verità cosmica ti dico nella mia esperienza nella mia esperienza preferisco includerle tutte dentro nel suo stesso allora come vedi invece un approccio in cui si periodizza lo stimolo ad esempio un mesociclo a basse rep con molti articolari seguito da un mesociclo più metabolico anche questo è sempre il discorso è sempre la stessa storia che gira gli ingredienti sono quelli e poi uno si fa il suo minestrone ok ai tempi miei agli inizi mi ricordo che noi facevamo così da gennaio a marzo si faceva forza poi da marzo a giugno si faceva ipertrofia e da giugno fino a luglio perché dopo agosto le palestre erano chiuse si faceva la definizione ti rendi conto? cioè nella nostra ignoranza ci immaginavamo che per tre mesi miglioravamo la forza che ci stava anche 12 settimane no? un programmino di forza ci sta e le migliori dopodiché basta forza ipertrofia così certo davi uno stimolo meccanico c'era ma quali ipertrofia potevi avere due o tre mesi quali ipertrofia potevi avere sì un chilo due sempre no in un mondo perfetto nel frattempo perdevi la forza perché non la allenavi più non la mantenevi no? dopodiché definizione due mesi allora uno che era già più o meno in ordine in due mesi tra noi avevo 11 anni arrivavo dalle arti marziali dove era il mio problema avevo gli arti lì fuori prima e dopo ok però persone che vogliono migliorare veramente la forza o fanno sei mesi di forza e poi cercano di mantenerla inserendo anche la parte di allenamento di ipertrofia di tensione meccanica e quando fanno la definizione continuano a fare forza e ipertrofia è questo la scoperta dell'acqua calda che noi quando facevamo la definizione pensavamo che bisognava fare il mesociclo metabolico o come si come chiami tu metabolico o mitocondriale o adesso non hai gli nomi che vuoi 15-20 ripetizioni era l'allenamento per la definizione col seno di poi siamo resi conto che era una parte della giostra e non tutta la giostra le isometrie sono utili se lo scopo è l'ipotrofia questo è molto interessante allora le isometrie sono noiose l'impossibile sono difficili tantissimo e chi le sta usando adesso dice che ha risultati ora io non ho abbastanza esperienza sono a zero perché a me star fero così con una statua in manubri non mi diverto io che devo avere muscoli grossi ok come ho detto all'inizio di questa di questa diretta faccio cioè l'allenamento deve essere anche appassionante no aderenza all'inizio la fascia iniziale l'allenamento deve farti venire voglia di andare in palestra scusa ma secondo te io vado in palestra e mi metto in squat fermo vuoi squat oppure col bilanciere fermo così a metà come un cretino la gente mi guarda se stai bene capito cioè non mi sentire a parte che uno si può allenare a casa sua ma mi sentirei strano non mi diverte non mi piace ma di per cui ma di un geometria fa venire i muscoli ma anche come sto facendo io se fossi una cosa stravolgente che ci sei ho 44 di braccio voglio avere 52 fai le isometriche fra sei mesi 6 con 52 forse ci penso ma siccome non è così ok quindi sono utili per a scopo l'ipertrofia la teoria dice di sì chi sta provando dice di sì ma io ho visto nel corso dei decenni che tutte le cose nuove gli entusiasti che sono i primi che provano tutto chi te diga le no cioè hanno appena fatto cioè sono c'è una parte psicologica capito c'è un effetto placebo ma come fa uno a dire di chi ha avuto successo con l'ipertrofia con l'isometria perché prima eri in stallo e poi ho fatto l'isometria io lo voglio vedere documentato lo voglio vedere documentato fino ad oggi non ho visto nessuno documentare una roba del genere parlo di atleti seri atleti che si avvenono una programmazione questa era la mia programmazione ero in stallo da sei mesi non cazzo niente non c'era più verso ho inserito le isometriche e sono migliorato 3 mm 5 mm allora mi dici che funziona no mi vedo più grosso mi sembro più grosso oppure ho cambiato prodotto e siccome ho staccato col deco ho cominciato col train funziona di più o viceversa capito quindi questo è il concetto c'è una strategia alimentare per mantenere gli stessi carichi in phase di cat o necessariamente bisogna abbassare il peso la strategia alimentare per mantenere i carichi in fase di cat non ha senso cioè io non ho nessun interesse ma c'è riformula io cerco ovviamente di tenere i carichi che posso ma il concetto predominante è che io devo definirmi quindi io quello che interessa a me è perdere grasso se riesco a tenere i pesi meglio se non riesco a tenere i pesi non ritengo che la strategia alimentare per mantenere i pesi dovrebbe essere quella mangio di più non è che se mangio se cambio la percentuale dei macronutrienti divento più forte cioè sono che ne so a 1800 calorie che è già bassissimo per un uomo in definizione e sono a 2 grammi di proteine e vado a 2,2 a scapito dei carichi oppure vado a 1,8 di proteine per 2,2 di carboidrati non è detto che sono più forti uno dice ma nella teoria sì perché hai di dai più glicogeno però è tutto da vedere è sempre tutto da vedere nel soggetto quindi potrei dirti potresti togliere un po' di proteine e mettere il carbo tolgo 0,2 di proteine e aggiungo 0,2 di carbo le calorie sono sempre quelle ho cambiato i macro gli ho dato più glicogeno potrei essere più forte è una prova ok ragazzi io direi che sono andate due ore vi ringrazio tantissimo perché siete stati con me fino alle 11 di sera e spero che la cosa vi sia stata utile la mia soluzione come ho detto alla voglia di migliorare l'ipertrofia quando uno non viene da fuori è il Kong ricordatevi però che il Kong non è per tutti ok l'avevo tolto dal mercato perché la gente lo comprava in maniera sconsiderata cioè pensano che sia una programmazione per fare i muscoli è una programmazione per fare i muscoli ma una programmazione seria ok richiede un impegno e richiede soprattutto una consapevolezza con il peso grazie ancora di essere stati con me e niente se avete proposte di altri argomenti che volete che tratto sono a disposizione buonanotte grazie a tutti